Musica Attimi di terrore nel casertano, prima una violenta grandinata, poi un forte boato. Erano quasi le 19 quanto una tromba d'aria si è abbattuta sulla provincia di Caserta. A preannunciare il disastro una forte grandinata sul capoluoco ed in altre zone. Poi il vento era fortissimo e dalla zona sud si vedeva una vera e propria colonna di vento avvicinarsi pericolosamente al casertano, travolgendo tutto ciò che trovava davanti. Si è anche interrotta in molte strade cittadine la pubblica illuminazione. La città più colpita sembra essere San Nicola la strada. La bufera si è abbattuta anche su Maddaloni e Marcianise. Tra le segnalazioni a testimonianza della forza del vento, le immagini che vedete nel video. Disaggi anche in autostrada, soprattutto nei pressi dello svingolo di Caserta Sud, a causa di pezzi di auto che sono piovuti ovunque, che appunto state vedendo nelle immagini. Cote si registrano per allagamenti al bivio di Caserta Nord e Caserta Sud e con l'allacciamento della Caserta Salerno, secondo quanto riportato sul sito di Autostrade per l'Italia. Da Caserta è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it